Un altro tempio che si trovava qui era il Tempio di Fides, cioè la fiducia, la fedeltà. Questo tempio è franato giù e i suoi resti sono stati trovati nei pressi della chiesa di Santo Mobono. Si tratta di frammenti di colonne di travertino, che è una pietra calcarea sedimentaria proveniente dalle cave presso Tivoli, e di un pezzo di podio in opera cementizia, che è una tecnica edilizia caratterizzata dall'utilizzo del cementizio, che sarebbe una mescolanza di malta e frammenti di pietra. L'identificazione di questi resti come appartenenti al Tempio di Fides è sostenuta da due informazioni. La prima è il ritrovamento di iscrizioni bilingui, in greco e latino, che sono dediche lasciate da popolazioni dell'Asia minore nel II I secolo a.C. Infatti la Fides era la divinità che tutelava i rapporti diplomatici e i trattati. La seconda informazione che abbiamo è che in questa zona venivano collocate tavolette di bronzo che attestavano l'onorevole congedo dei legionari. La Fides infatti tutelava anche la fedeltà dei militari allo Stato. Un altro edificio, che è questo, aveva lo stesso orientamento del Tempio di Giove, ma sorgeva a un livello più alto. Se ne possono vedere i resti nei muri ai lati di via del Tempio di Giove, aperta nell'Ottocento, che tagliò in due l'edificio, scoperto proprio durante i lavori per l'apertura di questa via. Anch'esso è un'opera cementizia ed è stato identificato come Lara dell'Agenza Iulia, che forse a sua volta era Lara Pietatis, votata dal Senato nel 22 d.C. in occasione di una grave malattia della moglie di Augusto, Olivia, ma che solo nel 43 d.C. fu dedicata dall'imperatore Claudio. Andiamo adesso a vedere il Tempio di Giunione Moneta. Questi resti che vedete nella foto si trovano nel giardinetto ai piedi di Santa Maria in Araceli e sono muri in cementizio, in opera quadrata di tufo di Fidene e di peperino. In queste strutture gli archeologi hanno proposto di riconoscere il Tempio di Giunione Moneta, che fu votato nel 348 e costruito nel 343 a.C., secondo la tradizione del figlio di Camillo, dopo una vittoria sugli Aurunci, che era un popolo che abitava principalmente la zona tra il Lazio e la Campania. Abbiamo ricordato nella scorsa lezione che moneta vuol dire ammonitrice. L'origine di questo epiteto di Giunione ha la sua spiegazione mitica per l'avvertimento che la dea dia dai romani tramite le oche nel 390, ma gli archeologi preferiscono la spiegazione razionale dei fatti storici. Il vincitore dei Galli, Maglio, detto Capitolino, fece costruire in quel punto la sua casa. Questo era un chiaro tentativo di affermazione di un potere individuale e la volontà di opporsi a questo atteggiamento si riscontra nell'appellativo che venne dato a Giunione in quel tempio, quindi ammonitrice di questo fenomeno. Infatti la Repubblica era nata proprio per contrastare il potere dei singoli, cioè la monarchia. Per quanto riguarda le abitazioni, le fonti riportano che sul Campidoglio c'erano le case degli aristocratici. Una delle ripercussioni del tentativo di Maglio Capitolino di prendere il potere fu il divieto di costruire case, ma ci sono resti di palazzi nella galleria sotto i musei Capitolini di II secolo d.C., come l'insula che sta sotto l'altare della patria, che esamineremo nella prossima lezione. Quindi si tratta di case popolari e non di aristocratici. Dunque all'inizio probabilmente c'erano solo le case dei privilegiati, poi ci fu il divieto di costruire queste case, ma non si sa per quanto tempo, e in seguito in qualche modo trovarono posto sul Campidoglio le case popolari. Quindi il problema abitativo del Campidoglio non si riesce a inquadrarlo bene, rimane aperto, andrebbe indagato più a fondo. Ricordo infine ciò che abbiamo detto nella prima lezione, cioè che in questa zona sorse la zecca. Ed è questa l'origine del nome moneta utilizzato per indicare il denaro. Ora vediamo i probabili resti dell'Auguraculum. Qui. Sempre nei giardinetti dell'Arx ci sono questi resti in cappellaccio, che forse appartengono appunto all'Auguraculum, che era in relazione con il comizio del foro, perché il comizio era l'area delle attività politiche e giudiziarie della città, e queste attività, come praticamente tutta la vita del cittadino romano, dovevano essere scandite da rituali religiosi, per capire se gli dei erano favorevoli o no ad una certa attività. La scorsa volta abbiamo detto che dall'Auguraculum i sacerdoti chiamati auguri prendevano gli auspici osservando il volo degli uccelli. Ma sempre qui avvenivano anche diversi altri riti, come l'inaugurazione rituale del re, e infatti da qui probabilmente Numa Pompilio presevoti per diventare re, e la sua inaugurazione c'è descritta da Livio e da Plutarco. Qui inoltre il re compieva i sacrifici alle none di ogni mese. Dall'Auguraculum si doveva vedere tutto lo spazio della città, tant'è vero che abbiamo delle fonti che testimoniano che degli edifici vennero abbattuti, perché si intromettevano nella visione dell'Auguraculum. Ora abbandoniamo per un po' il Campidoglio e dedichiamoci al problema dell'arte romana. Dopo le guerre con i Sanniti, i romani si scontrarono con le colonie greche, e questo portò anche alla circolazione di manufatti artistici greci e vasellame decorato. Per la verità, all'inizio i romani non apprezzavano l'arte e la filosofia dei greci, perché non le ritenevano cose utili a fini pratici. I romani erano uomini pratici, appunto, contadini e soldati, con dei valori antichi che cercavano di non perdere. Anche quando Roma apprezzò e dunque acquisì fortemente la cultura greca, ci furono dei personaggi molto conservatori, come Catone il Censore nel III-II secolo, che lamentavano la perdita del mos maiorum, cioè il costume degli antenati, la consuetudine, tutto l'insieme di idee, valori, usanze, eccetera, che avevano da sempre avuti i romani perché trasmesse di volta in volta dalle generazioni precedenti. Personaggi come questi contrapponevano le proprie origini alla mollezza dei costumi della civiltà greca, mollezza fra virgolette, e Catone stesso si adoperò addirittura per l'espulsione da Roma dei filosofi e dei retori greci. Comunque sia, tra IV e III secolo, le popolazioni centroitaliche, compresi i romani, assimilarono le arti delle città magno-greche, in cui la madrepatria trasferiva i prodotti tipici dell'indirizzo formale dell'ellenismo. In questo modo si creò una mescolanza tra arte greca, arte etrusca ed esperienze tipiche dei popoli italici, e dunque ci furono prodotti differenti in ognuna delle popolazioni. Per questo motivo in questo periodo non si può parlare di arte romana, perché essa non ha i suoi caratteri peculiari che ne giustificano una classificazione a parte. Parliamo dunque in questa fase dell'arte medioitalica. Vediamo adesso alcuni prodotti di quest'arte. La cosiddetta cista, cioè cesta, a Ficoroni, è un recipiente di forma cilindrica, il rame, che fu usato probabilmente come portagioie. È alta 53 cm ed è conservata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Si data a fine IV e inizi III secolo a.C. È un dono di nozze di una madre ad una figlia e riporta, sul coperchio, per la prima volta il nome di Roma su un oggetto d'arte. Roma è infatti menzionata come luogo di produzione ed è riportata anche il nome dell'artefice. La scritta infatti dice Dindia Macolnia mi donò alla figlia, Novios Plauzios mi fece a Roma. Questo nome, Novios Plauzios, non indica un romano, ma un immigrato dalla Campania che operava a Roma, divenuta centro culturale importante. Questa cista fu ritrovata a Preneste, cioè l'odierna palestrina, nel 1738 dall'antiquario Francesco Ficoroni, e così l'oggetto prese il suo nome. La scista ha i piedi in forma di zampa di leone e il corpo sviluppa una decorazione graffita, eseguita a bulino, cioè una punta di ferro acuminata che serve per incidere la superficie metallica, e che racconta le vicende mitiche degli argonauti alla ricerca del vello d'oro. La vicenda è complicata. Molto brevemente, gli argonauti sono un gruppo di roi che salparono sulla nave Argo dalla Grecia per dirigersi nella Colchide, un'antica regione sulla costa orientale del Mar Nero, per cercare il vello d'oro, cioè la pelle d'oro di un ariete magico nato da Poseidone. Grazie a tutti.